Si dicono soddisfatti gli operatori commerciali del centro di Pescara dopo l'ordinanza del sindaco Carlo Masci che dal 20 dicembre al 9 gennaio 2022 rende più elastici gli orari di chiusura dei locali della Movide e soprattutto uniformi in tutta la città. Certo sono saltati gli appuntamenti di maggior rievo come il concertone di fine anno causa Covid e relativi timori di nuovi contagi ma gli esercenti non si danno per vinti. Ora molto dipenderà comunque dalle decisioni che assumerà il governo nella cabina di regia prevista per domani. Fabrizio Vianale di Confartigianato. Allora finalmente il comune ha fatto un passo verso le richieste degli esercenti e dal 20 dicembre al 9 gennaio dalla domenica al giovedì si potrà lavorare fino alle 1.30 e venerdì sabato i prefestivi fino alle 2.30. è fatta eccezione per il 31 che è ancora ulteriormente posticipato alle 3.30. Ovviamente è un passo importante considerando che per tanti motivi ci sono comunque meno persone in gira degli anni precedenti, lavorare di più è fondamentale, attività per resistere alla forte crisi che c'è stata. Secondo noi potrebbe essere il famoso compromesso che stiamo cercando da tempo, cioè estendere poi questi orari e non farli terminare il 9 ma allungarli fino a prima dell'estate per poi rivalutare la situazione. Sul mancato concertone Vianale ha un piano B. L'idea potrebbe essere quella diciamo di investire quanto era stato stabilito per l'evento diciamo di Capodanno in tanti piccoli eventi, micro eventi, diciamo in tutto in modo diffuso per il territorio per assicurare che le persone comunque ci siano, ci sia movimento e ci sia lavoro per le attività. Marina Dolci con Fesercetti. Allora noi abbiamo visto una certa ripresa, c'è voglia comunque di stare insieme, di fare regali, c'è stato un bel passeggio nel weekend scorso, quindi siamo propositivi per questo Natale. Certamente l'incubo del Covid c'è sempre. Per il periodo di Natale è cambiata l'ordinanza, orari uguali per tutti i locali, quali sono le vostre aspettative? Le aspettative ci sono, ci sono, sono tante perché in questo periodo purtroppo con la chiusura anticipata delle attività da parte della Movida c'è stato un decremento delle presenze e gli esercenti hanno notato veramente una grande difficoltà per poter andare avanti. Tutto sta ad aspettare domani cosa dirà il governo Draghi, se potremo poter festeggiare fino alla sera tardi oppure ci saranno delle chiusure. Soddisfatto Riccardo Padovano, Conf Commercio, con una richiesta precisa. Abbiamo lavorato dal mese di ottobre per fare in modo che l'amministrazione e il sindaco mettesse in piedi questa ordinanza durante il periodo natalizio. Ha un'ordinanza che riguarda tutto il territorio, non solo Piazza Musi ma tutta la città di Pescara. Credo che i tavoli di concertazione poi alla fine premiano chi fa delle richieste con il senso di responsabilità. Profitto della vostra emittente per dire all'assessore dei lavori pubblici, nella giornata di oggi devi sospendere tutti i lavori di cantiere aperti nella città. Perché domani e dopodomani è l'antivigilia e la vigilia di Natale. Questi sono due giorni importanti per l'attività commerciale tutta. Si riprendono i lavori dopo il 2 gennaio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.